Il video di oggi nasce dall'esigenza di rispondere a una domanda che mi è già stata fatta abbastanza spesso in passato e che recentemente è tornata alla ribalta dopo che ho pubblicato alcune storie su Instagram. E quindi è tempo di metterci qua, di rilassarci con una bella tisana e di fare quattro chiacchiere insieme. Per tutti quelli che non mi conoscono, io mi chiamo Roberto Panciatici e sono un fotografo professionista che si occupa principalmente di fotografia di ritratto e di matrimonio e che lo fa un po' in giro per il mondo. Giorni fa mentre ero alle prese con un viaggio definiamolo un po' turbolento per rientrare qua a Berlino ho pubblicato questa storia su Instagram dove qua in piccolo vi dicevo che una volta rientrato in Germania mi sarei sostanzialmente messo a finire il video da pubblicare poi qua su YouTube il giorno dopo. Video che peraltro parla di ispirazione fotografica e che quindi vi invito assolutamente a vedere nel caso in cui ve lo foste perso. Ma non cambiamo discorso adesso. A seguito di quella storia stavo dicendo le persone che mi seguono su Instagram che sono principalmente non solo persone appassionate di fotografia diciamo ma anche e soprattutto fotografi professionisti che ovviamente proprio perché colleghi conoscono perfettamente quali sono gli sbatti, i problemi e anche la pressione che si affrontano normalmente durante i periodi più intensi della nostra stagione lavorativa. E quindi dopo aver letto che una volta arrivato in Germania mi sarei anche subito messo a sistemare un video da pubblicare qua su YouTube il giorno dopo beh la domanda che a tutti in qualche modo è sorta spontanea è stata proprio questa Rob ma chi cazzo te lo fa fare? Beh allora diciamo che la domanda è lecita ma anche diciamo che la risposta facile in qualche modo ve l'ho già data su Instagram con questa storia perché alla fine lo faccio per una ragione molto semplice ovvero perché mi piace. Tuttavia però questa domanda apparentemente novo e scontata ha riaperto dei cassetti un po' scomodi della mia vita perché mi ha forzato a pensare non solo al perché ho aperto questo canale ma anche e soprattutto a quando l'ho fatto ed è proprio qui che in qualche modo tutto si complica. Questo sono io sei anni fa tutto intento a fare i miei primi tentativi davanti alla macchina fotografica questo sono sempre io quattro anni fa mentre faccio altri tentativi sempre davanti alla macchina fotografica e questo sono ancora io mentre beh avete capito credo potrei andare avanti davvero per molto altro tempo ancora con questi esempi prima di arrivare finalmente un bel po' di anni dopo fra l'altro a quello che è stato il mio primo vero video qua su YouTube che peraltro è stato pubblicato solo due anni fa come vedete quindi ci ho messo un bel po' a prendere il via diciamo prima di iniziare questo canale e per alcuni certo questi sono solo degli stupidi video su YouTube e quindi chi se ne frega no? Ma come avviene per tutte le cose di questo mondo noi non vediamo e non valutiamo l'importanza e la bellezza delle cose tutti allo stesso modo e sostanzialmente dove altri vedono solo stupidi tentativi per altrettanti stupidi video su internet io invece vedo tanti piccoli pezzi di una storia mai raccontata davvero perché è proprio lì quando sei immerso nel tuo sogno di girare il mondo fotografando le persone tutto preso da raccontare le loro storie che a un certo punto ti rendi conto che tra tutte quelle storie ne manca una tremendamente importante e questa storia guarda caso è proprio la tua impiediamo così tante risorse nel tentativo di realizzarci nel tentativo di trovare la nostra direzione nella vita o magari per affinare il nostro stile fotografico e via dicendo ma alla fine è proprio la cosa più importante di tutte a essere in qualche modo messa da parte e a restare senza una voce e questa cosa di cui parlo è proprio il viaggio che ci ha condotti lì e adesso se vi sforzaste un attimo di vedere il mondo da questa nuova prospettiva che vi ho appena illustrato vi rendereste conto che la domanda non è più rob ma chi cazzo te lo fa fare semmai diventa rob ma perché cazzo non l'hai fatto prima beh non l'ho fatto per motivi che oggi sostanzialmente definirei assolutamente stupidi ma come tutte le cose stupide della vita c'è un tempo in cui quelle cose così stupide purtroppo non lo sono visto che comunque hanno la forza di bloccarci e di impedirci di fare quello che sostanzialmente pensiamo sia più giusto per noi ma al di là di quanto queste cose potessero essere stupide o meno quello che mi raccontavo tentativo dopo tentativo era che venivo male in video poi non mi piaceva la mia voce poi l'inquadratura non era abbastanza carina e quindi non andava bene così e via dicendo insomma dentro la mia testa c'era sempre un valido motivo per rimandarla questa cosa e l'ho capito solo dopo diverso tempo che ovviamente tutte queste cose erano solo scuse perché la verità è che dietro a queste cose in apparenza superficiali quello di cui poi avevo veramente paura è un qualcosa che in qualche modo spaventa più o meno tutti ovvero il giudizio degli altri avevo paura di espormi di prendere una posizione di mostrarmi per quello che sono avevo paura di quello che avrebbero potuto pensare le altre persone di quello che facevo o che dicevo o di come lo facevo in primis e soprattutto i miei colleghi e alla fine ho dato inconsciamente ascolto a queste paure per anni ma queste paure non mi hanno protetto perché la paura raramente ci protegge semmai ci rende irrazionali e spesso ci impedisce anche di fare quelle cose che per noi invece sono importanti e nel qual caso mi ha impedito di raccontare e di raccontarmi questo canale io l'ho fortemente desiderato e negli anni ho archiviato così tanti tentativi e così tanti altrettanti fallimenti che onestamente non me le ricordo neanche più lo so lo so stiamo pur sempre parlando di un canale youtube lo capisco quindi nulla di grave lo capisco davvero eppure il non aver aperto prima questo canale e il non aver dedicato il giusto tempo a questa parte della mia vita credeteci o meno ma per me è uno dei miei grandi rimpianti nel mio percorso fino ad oggi non lo dico perché adesso avrei avuto più follower o per chissà quale altro motivo legato alle analytics del canale lo dico perché a un certo punto del mio percorso e per la precisione quando ho preso l'aereo che mi ha condotto in grecia dove ho fatto il mio primo lavoro fuori dall'italia in quel momento ho avuto l'impulso chiaro netto e forte che avrei in qualche modo dovuto raccontarlo il mio viaggio infatti è proprio da lì che ho iniziato a registrare i miei primi video ma invece che dedicarmi davvero a questa cosa e impegnarmi a fare qualcosa di realmente concreto e soprattutto che dura ho preferito fare qualcosa di molto meno impegnativo come per esempio scrivere valanghe di cazzate su facebook e spendere tempo a creare un sacco di contenuti che non solo non durano ma di cui adesso nessuno si ricorda più neanche io stesso che li ho scritti e l'aver realizzato questo durante questi ultimi due anni spesi qua su youtube ha cambiato di molto il mio rapporto con i social in generale e quest'anno addirittura ho anche smesso di fare le storie su instagram mentre sono al lavoro al punto che alcuni colleghi mi hanno addirittura chiesto se stessi lavorando o meno come se il nostro mondo fosse descritto solo da quello che compare sui social media però lo capisco perché è questo quello che sostanzialmente fanno i social creano hype e ricamano l'illusione negli occhi di chi ci guarda ma alla fine diciamoci la verità è sostanzialmente solo spazzatura digitale che viene ritirata peraltro una volta al giorno e se ripenso adesso alla prima volta che sono stata a lavorare in Grecia o la mia prima volta che sono stata a lavorare a Hong Kong o alla mia prima volta in Francia, in Russia, in Giappone o alla mia prima volta in Cina oppure in India che cosa ho davvero adesso fra le mani per raccontare quell'esperienza? avendo impiegato solo del tempo sostanzialmente a scrivere stato su facebook oppure a fare delle storie su instagram beh, niente, non ho sostanzialmente niente, non c'è più nessuna traccia e quindi perché lo faccio? beh, lo faccio perché proteggo una scelta perché è questo che le nostre azioni fanno proteggono le scelte che abbiamo fatto mantenendole vive e la mia scelta di oggi è dedicarmi solo ed esclusivamente a quello che resta perché è questo quello che voglio voglio provare a raccontare un viaggio e voglio provare a farlo lasciando qualche piccola traccia la cosa curiosa di tutto questo adesso è che nel cercare di raccontare questo viaggio tutto è diventato più grande del semplice prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo perché adesso questo viaggio è diventato un percorso fatto di pensieri di parole, di punti di vista, di cazzeggio insieme di cose leggere e altre più profonde di reciproco influenzarsi di discorsi o discussioni fra nerd di nuovi contatti, di paure condivise e di rinascite tutte cose che insieme descrivono qualcosa che col tempo ha iniziato a prendere una forma tutta sua ad arricchirsi di nuove sfumature che non sanno più solo ed esclusivamente di me ma che sanno in qualche modo di noi perché in questo canale non ci sono più solo io ci siamo tutti insieme adesso ed è proprio questo senso di community che sento a spingermi una volta arrivata a casa dopo un lungo viaggio a mettere il culo su una sedia per finire di sistemare un video perché ho voglia e piacere di rispettare un impegno che adesso non sento solo con me stesso ma anche con tutti voi e col senno di poi quello che mi fa più sorridere di tutta questa storia non è tanto l'aver superato le tante piccole paure che ho incontrato lungo il cammino ma che come ogni altra cosa della vita alla fine tutto è sostanzialmente iniziato davvero quando ho smesso di farmi troppe pippe mentali e sostanzialmente ho deciso di farlo e basta in verità ho iniziato a pensare a questa cosa da un bel po' di anni ma soprattutto nell'ultimo periodo mi sono chiesto spesso come poter aprire un canale youtube alla fine mi sono accorto che ce l'avevo già ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti